Adi, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo. Partirei con le interviste di quest'anno, ospiti di Adi qui al Sonno del Mobile, con l'importanza per le aziende di far parte di un'associazione come Adi, che in qualche modo fa anche la storia delle aziende, la comunicazione, assegna premi, ma crea anche delle occasioni di incontro, per esempio questa, ma tanti altri Rousseau potremmo definirli. Allora il fatto di far parte di un'associazione che da sempre, dagli anni 50, parla di design e spinge il design e il progetto in avanti, che cosa significa per voi? Per noi la partnership con Adi è fondamentale, negli anni ha dato sempre grandi gratificazioni, Nel particolare quello che ci interessa è che Adi sia portatore all'estero di tutto quello che è il nostro prodotto made in Italy e soprattutto di tutto quello che c'è dietro la cultura del progetto prodotto, quindi in termini di passione, in termini di metodo, in termini di attenzione al cliente inevitabilmente soddisfare quel bisogno sensoriale che è il design. Parliamo dei musei d'impresa, in qualche modo questa rete che da anni finalmente le aziende sostengono, ma che finalmente fanno anche parte in qualche modo di associazioni e di luoghi fisici, dove questo museo del design allargato, chiamiamolo così, prende finalmente forma in varie situazioni. Che importanza ha il museo per gli studenti di design e architettura, ma anche per le persone comuni? Io ho fatto tanti anni televisioni cercando di divulgare il concetto di progetto di architettura. Bene, giustamente i musei d'impresa oggi sono una sorta di museo diffuso del design su tutto il territorio nazionale. In particolar modo come MUMAC, come Museo della Macchina per Caffè Espresso di Gruppo Cimbali, noi abbiamo al nostro interno delle attività che riguardano la possibilità di conoscere l'evoluzione del design delle macchine per Caffè Espresso a partire dalla fine dell'Ottocento per arrivare fino ai giorni nostri. Per ciò che riguarda Adi in particolar modo abbiamo una macchina che ad oggi è l'unica macchina per Caffè Espresso da aver mai conseguito l'ambitissimo premio del compasso d'oro che è la Pitagora della Cimbali, disegnata nel 1962 dai fratelli Castiglioni. Per cui direi che sono veramente dei luoghi di scoperta i musei d'impresa. Nel 1962 i fratelli Castiglioni hanno disegnato tutto, le lampade più belle sono di quell'anno. Tutti gli oggetti che conosciamo di questo museo, in questo caso a memoria che ho del design, se dovessi scegliere un anno, il 1962 sarebbe sicuramente uno di quelli prediletti. Si parlava di prodotto, non è semplice per un gruppo come il vostro andare a innovare in continuazione. Dove sta andando questa innovazione? Immagino l'interazione digitale in qualche modo sia entrato anche in questi prodotti. Sicuramente, noi ci orientiamo a quelli che sono i bisogni, i nostri clienti. Teniamo presente che i locali in cui la macchina da caffè è installata seguono tutti tendenze in termini di design e la macchina da caffè non può non essere in coordinato con questo ambiente. Quindi nello sviluppo prodotto noi siamo orientati sicuramente a quello che è l'obiettivo stilistico, raggiungere più stili possibili e in termini di B2B, perché la macchina da caffè rientra in questo business, definirei che siamo borderline con il B2C. Entriamo in un contesto di comfort, in un contesto dove il bisogno sensoriale va soddisfatto e con l'ottima qualità in tazza del caffè e sicuramente col design. Sottolineo che abbiamo vinto da poco il Red Dot con il marchio Faema, le 71e e questa per noi è una grande soddisfazione. Questo concetto che hai espresso è importantissimo perché hai detto appunto un marchio B2B che è spesso anche B2C. Il B2C non è altro appunto che la divulgazione in un certo senso, cioè andare anche al mercato all'utente finale in qualche modo, però vuol dire anche essere conosciuti dall'utente finale e in questo caso l'istituzione che in qualche modo sovrintendi, rappresenti, è importantissima. Farei un'ultima domanda a te in questo caso. Che cosa ti aspetti che l'Adi possa fare nei prossimi anni, visto che comunque siete così closed? Sì, direi che l'Adi sta già facendo molto, soprattutto con l'impegno che si è data di inaugurare per il 2020 il nuovo museo, all'interno del quale credo si potrà veramente godere di un grande patrimonio del design italiano, all'interno del quale poi chiaramente ciascuno si auspica di esserci. Questo è indubbiamente un passo che Adi sta facendo, un passo impegnativo da una parte, ma dall'altro senz'altro sarà di grandissima soddisfazione e anche per tutti gli associati. Chiudiamo con una domanda sul territorio. Siamo a Milano, siamo nell'Interla, siamo in una situazione di attenzione internazionale. Allora vi faccio questa battuta. Cosa vuol dire insistere su questo territorio oggi? Vuol dire essere presenti. Infatti siamo presenti a fuori saloni, al flagship Faema in zona Tortona, in via Forcella e vi aspettiamo tutti per divulgare la cultura del caffè. Il caffè che diventa sempre un'esperienza più importante a cui dedicare tempo e non prendere un caffè così in pochi minuti. Milano? Milano è senz'altro in questo momento il cuore del mondo del design. E esserci significa portare dovunque il made in Italy, il made in Milano oserei dire. E ci terrei a sottolineare anche il fatto, quello che tu dicevi prima, che in realtà il business to business diventa sempre più business to consumer ma diventa sempre più human to human. siamo persone, ciascuno di noi vuole appunto trarre il massimo da quello che vede, da quello di cui può godere ogni giorno. È una buona tazza di caffè, è una delle cose che secondo me fanno iniziare anche molto bene la giornata e quindi con le nostre macchine un ottimo design. Il fatto di essere a Milano senza dubbio è una delle cose fondamentali in questo momento. L'uomo al centro che è un pay off anche di questo salone. Grazie. Grazie Adi. Adi, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo.